Per favore, ciao a tutti, mi chiamo Damli, io conosco questo percorso da sei anni, però ho fatto il primo campus da poco in Ranana. La mia domanda è, per raggiungere la fine della correzione, tutto il mondo deve studiare la Kabbalah e riconosce lei che ci sono altre forme di trasmettere questo messaggio? Rav, di esprimere questo messaggio e di arrivare alla correzione finale? Rav dice, questo è un metodo che i kabbalisti hanno rivelato, a partire dalla natura. L'hanno scoperto lì, non che qualcuno si filosofava su questo o si occupava di questo così, ma questa è una scienza, una saggezza che parla sopra della natura e come si organizza la natura e come è possibile correggerla, come è corrotta in noi e come possiamo correggerla e allora non c'è un'altra forma, non c'è un altro metodo, solo questo. Prego, grazie.